Saluto a tutti, io oggi parlo come donna, come trentenne, come musicista e sono molto contenta che oggi ce ne sono tanti di musicisti che fanno tantissimo per la Sardegna e fanno un lavoro incredibile con sacrifici e salti mortali davvero tosti e non è facile fare cultura oggi. Però io sono convinta, ne sono certa, che non sono i tafferugli, non sono gli atti intimidatori, ma è la cultura che ci salverà, ne sono certa. Ci salverà la cultura e ci salverà la consapevolezza di avere un valore. Allora io non ho voglia di mettermi a piangere, le mie lacrime le do per qualcuno di davvero importante, questi signori non se le meritano le mie lacrime, allora io non gliele do. E poi voglio parlare anche in testimonianza di tutti quei ragazzi che fanno le valigie e se ne vanno. Allora io ho deciso di restare qui e quindi voglio parlare in nome di tutti quelli che hanno scommesso con coraggio di restarci in Sardegna. E di scommettere su questa terra e di lavorare. C'è una vera emorragia di ragazzi che se ne va, sia a livello studentesco. Ci sono molti ragazzi che non hanno addirittura la possibilità di studiare qui in Sardegna e se ne devono andare perché non ci sono neanche i corsi di studi. E con enormi sacrifici da parte dei genitori fanno le valigie e se ne vanno. Dieci anni fa io l'ho fatto, ho studiato a Bologna e oggi mi vergogno di andare da mio padre e di dirgli papà mi sono laureato, ho preso 110 lode, ho un master, parlo tre lingue ma sono disoccupata. Forse non è colpa mia, forse non è solo colpa mia. Io ce l'ho messa tutta così come ce l'hanno messa loro. Però c'è ancora una chance, io ne sono convinta, per me non è ancora tutto finito. La Sardegna per molti è un deserto, per me è una terra vergine ed è giunto il momento di smettere di chiedere qualcosa a qualcuno. Ora è giunto il momento di prenderci ciò che è nostro di diritto e sono qui insieme a tutte le persone che ci sono qui davanti sotto il sole, che sono ancora qua sotto, che hanno smesso di piagnucolare. Adesso ci prendiamo le nostre responsabilità, adesso ci mettiamo la faccia e siamo pronti, donne e uomini di Sardegna, a governare. Perché fino a che non saremo pronti a prenderci le nostre responsabilità, nulla potrà cambiare. Perché fino a che non saremo. Hai! Grazie a tutti.